Noi siamo stati accusati per mesi di voler speculare sull'allarmismo, la Lega che specula sulla pancia del terrorismo, che specula sulla pancia degli immigrati per creare allarmismo. Nulla di tutto ciò, erano dei dati di fatto assolutamente certificati e il fatto che ieri sia stata sgominata una cellula terroristica operativa in Lombardia, Piemonte, in Albania e nei Balcani con tre soggetti che sono stati arrestati. Sì, io e nipote mi pare erano due, poi ce n'era un'altra, una terza. Esatto, che avevano avviato operazioni di reclutamento, uno dei reclutati era un cittadino italiano tunisino che abita a un chilometro e mezzo da casa mia, dalla provincia di Como e noi già all'epoca sollevamo il problema e ovviamente le solite considerazioni nei confronti della Lega che alimenta casi semplicemente per prendere voti. No, è un dato reale, io credo che emerga in maniera estremamente chiara, non solo quanto emerge ieri da questa inchiesta con gli arresti, ma attenzione, ieri la DDA di Palermo, quindi non la sede della Lega di Via Bellieri, Matteo Salvini, Nicola Molteni, dicono in maniera estremamente chiara, alla luce delle intercettazioni su un'inchiesta, che ormai l'immigrazione clandestina, il fenomeno della gestione degli sbacchi e quindi della tratta degli esseri umani in Libia è gestito in prima persona da gruppi armati libici potenzialmente legati al terrorismo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire due cose. Primo, come ci ha confermato tra l'altro anche il capo della polizia Pansa e come ci ha confermato anche il procuratore nazionale antimafia Lombardi, Roberto Lombardi, che il fenomeno dell'immigrazione clandestina finanzia e alimenta il terrorismo islamico. Il terrorismo islamico è alimentato anche da quel fenomeno. Questo però non vuol dire che con quei barconi arrivino terroristi in Italia. Questo vuol dire che noi abbiamo posto l'equazione terrorismo-immigrazione. È un'equazione sostenibile. Secondo noi sì, gli addetti ai lavori quantomeno non la escludono. Quindi c'è una potenzialità da questo punto di vista. Allora io dico che in un paese che sta vivendo un problema interno, perché i foreign fighters e i lupi solitari li abbiamo qua, come abbiamo visto dall'inchiesta, ma c'è anche un problema potenzialmente esterno che deriva dal fenomeno dell'immigrazione clandestina. Ieri il prefetto Morcone ha detto che in Italia sono sbaccati nel 2015 10.000 potenziali immigrati clandestini presunti profughi. Nel 2014 170.000. La risposta di un governo serio, e lo dico in maniera estremamente chiara, non può essere il decreto la cui votazione inizia oggi, il decreto antiterrorismo, antiterrorismo che è acqua di rose, che è un pannicello caldo, che non è la risposta concludiva, sono risposte necessarie ma non sufficienti. In un momento di grave pericolo e di grave rischio come quello che sta vivendo oggi il nostro paese, la risposta è ad esempio quella di fermare immediatamente il fenomeno dell'immigrazione clandestina. L'ha detto Bernardino Leone, che è l'osservatore speciale dell'ONU in Libia, la possibilità di poter utilizzare il blocco navale. Noi dobbiamo riprenderci il controllo delle nostre frontiere, dei nostri confini e io credo che in un momento dove noi abbiamo un'intelligence di primissimo livello, abbiamo le forze dell'ordine che con grande difficoltà stanno facendo, come abbiamo visto ieri, la Digos di Brescia, sta facendo ottimamente il proprio mestiere. Abbiamo delle procure in prima linea, la procura di Brescia ieri ha dimostrato un'attività di intelligence importante. Il problema è un problema politico. Io non affido la sicurezza del mio paese in un momento di grave difficoltà e di grave rischio come questo a un ministro come Angelino Alfano, che è un ministro assolutamente inadeguato a fronte di quei fatti, visto che Alfano aveva sempre negato l'esistenza del rischio terrorismo e aveva sempre minimizzato i problemi del nostro paese, un ministro come Alfano dovrebbe prendere e andare via, perché dimostra di non essere adeguato e idoneo a difendere la sicurezza dei cittadini.